buonasera a tutti amici del canale ben ritrovati stasera video notturno allora come di consueto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella se volete mi piace al contenuto e commentate così ci confrontiamo sull'argomento e magari si trae spunto per altri argomenti allora argomento del giorno alexandro se infortunato alexandria adesso la juve perderà tutte le partite secondo allegri perché alexandro è un fedelissimo un titolarissimo e quindi senza alexandro non si può stare però andiamo per grado alexandro si è infortunato lesione di basso grado al bicipite fermo femorale sinistro ne avrà più o meno per un mesetto abbondante se non due e qui scattano tutti i commenti dei tifosi juventini allora io vi chiedo l'infortunio di alexandro è una cosa buona per la juventus è una cosa sbagliata oggi pomeriggio ho fatto un post sull'infortunio di alexandro ed è emerso con tutti i commenti che ho ricevuto che è più o meno il 90 per cento dei tifosi reputa un bene questa diciamo sciagura per il difensore juventino allora alexandro è venuto alla juve è stato ingaggiato dalla juventus nel 2015 e si è fatto valere facendo due stagioni al top più o meno due barra tre stagioni al top erano arrivate anche sirene inglesi dove lui si era promesso se non mi sbaglio al celsi con uno stipendio ritoccato abbondantemente e la juve per trattenerlo è stata costretta ad offrirgli lo stesso contratto e lì ahimè è iniziato il declino del calciatore che piano piano si è andato spegnendo allora cerchiamo una risposta a questo declino io sinceramente non sono riuscito a darmela perché comunque alexandro è sempre stato un titolare un giocatore che raramente si infortuna era un giocatore che spingeva molto sulla fascia faceva qualche assist è riuscito a fare anche qualche gol però negli ultimi anni anziché fare le fortune della juventus ha fatto le sfortune non ci dimentichiamo l'errore madornale contro l'inter forse ne ha fatto più di uno contro l'inter che ci ha portati alla sconfitta a perdere le coppe italia e vari confronti diretti ma non solo contro l'inter ma anche contro altre squadre quindi perché allegri lo fa giocare sempre perché non abbiamo alternative in quel punto comunque inizio stagione e anche nella stagione precedente ha puntato molto su di lui quest'anno abbiamo provato gatti al posto di danilo e danilo che va a prendere il posto di alexandro e i risultati li abbiamo visti gatti è un'ottima alternativa anzi io direi che può prendere tranquillamente il posto di alexandro non riesco a capire perché allegri si ostina a farlo giocare se è vero ha più esperienza però tante volte questa esperienza non l'ha praticata non per colpa sua abbiamo come ho detto prima abbiamo perso e allora secondo voi alexandro al ritorno riconquistere il posto oppure il nostro gatti il nostro 44 gatti gli soffierà il posto e quindi se deve giocare è solo perché bisogna alternare i giocatori per risparmiare le forze e fare una stagione al top fino alla fine poi altra provocazione e qui chiudiamo il video secondo voi allegri spingerà come ha fatto con rabbio per un rinnovo per alexandro magari a cifre più basse però comunque e di tenerlo ancora in rosa visto che un fedelissimo a voi la risposta leggerò i commenti se ci saranno e come detto a inizio video ci saranno spunto per un nuovo argomento per fare un altro video comunque ci ci avviciniamo alla partita con sassuolo ci stiamo mettendo alle spalle la settimana delle coppe dove ahimè fa tanto male vedere che la juve non c'è tanti tifosi hanno gufato le italiane l'ho letto nei commenti nei vari gruppi e stasera stanno gufando anche le squadre in europa league e in conference io sinceramente sono del parere che le italiane si dovrebbero tifare sempre solo perché per il patriottismo italiano però sono punti di vista e va bene tutto però poi non lamentatevi quando tutti in europa ti ferranno contro la juve questo è il mio pensiero e allora vi saluto tutti grazie a tutti quelli che si iscrivono e mettono mi piace e grazie ancora anche a tutti gli altri che vedo nel video però non sono ancora iscritti mi raccomando e al prossimo video ciao ciao ciao